Ciao a tutti e benvenuti dagli Asoglass, sono Gianni Bini e siete all'interno di giannibini.it Quella che ti prego di zoomare è la sessione della mia ultima traccia in uscita su Ocean Tracks sicuramente, non so quando ma molto presto, una traccia house con alcuni frammenti vocali. Vi faccio sentire. Beh non è tanto il suono che ci interessa perché ovviamente dal telefonino poi sarà veramente una mezza merda però è interessante questa traccia perché mi dà la possibilità di farvi vedere come già avevo spiegato in un altro post come il connubio in the box, out of the box funzioni, secondo me perfettamente ovviamente quando si fanno questo tipo di tracce è anche abbastanza semplice da fare. Ve lo faccio vedere. Io ho diviso le tracce in stem, praticamente sull'uscita 1, 2 abbiamo tutta la ritmica, 3, 4 i bassi, 5, 6 i synth, 7, 8 gli effetti, 9, 10 con tutti i reverberi e delay sono le voci. Quindi abbiamo 5 stem in definitiva. Questi 5 stem, e qui bisogna che si va dietro il monitor, vanno all'interno del sommatore TecnoSign che è questo qua che vedete, pomelli rossi, che è però comandato e remotato dalla plug-in. Io controllo tutti gli ingressi e ovviamente il master di uscita che, convertito attraverso il Lavery Gold, mi rientra in una traccia AUX all'interno di Pro Tools, apro il connector, metto 2-3 cosine proprio giusto per contenere un po' la parte dinamica, un limiter e mi faccio un master così, velocemente, pronto, ascolto per poter poi testare in discoteca. In questa maniera io sto lavorando in the box, però la somma di tutte le mie tracce audio avviene in maniera analogica. Il sommatore TecnoSign ormai compie un anno qua all'interno di AsuGlass e quindi lo conosco, lo so usare, so quando posso spingere e quando no, onestamente non è mai andato in crisi, quindi io spingo più che posso e mi rientra un segnale già bello alto di livello ma non c'è assolutamente nessun problema e basta solamente un pochino di outboard e qualche plug-in e si ha già un master che suona veramente molto bene. In questa maniera voi non avete il problema del bounce digitale, del collo di bottiglia, di tutte le problematiche che girano intorno a un bounce digitale, specie se fatto offline molto velocemente e vi assicurate un master secondo me perfetto, come se aveste una console come quella che avete già intravisto all'inizio del filmato. Niente, volevo solo condividere con voi questa cosa, vi saluto, vi ringrazio ad un prossimo video. Ciao!